Questa azienda è nata Nell'87 perché in zona non era presente nessun tipo di attività lavorativa simile a questa E quindi abbiamo avuto queste idee insieme alla mia sorella, ai miei familiari E inizialmente siamo partiti esclusivamente come bar Poi per completare un po' l'offerta ci siamo lanciati in questa avventura dolciaria Il nostro prodotto noi riusciamo a commercializzarlo a livello regionale Con qualche punta fuori regione Però la maggior parte siamo presenti nelle catene di vendita per quanto riguarda supermercati, botteghe e quant'altro La stragrande maggioranza dei nostri prodotti sono prodotti di pasticceria tipica Partiamo dallo stomatico, piparelle, susumelle, biscotti da latte Poi abbiamo i tarallucci Ed inoltre però il nostro cavallo di battaglia Diciamo che la nostra azienda ha impegnato parecchio del suo budget per quanto riguarda la produzione di torrone E dall'87 abbiamo avuto tante soddisfazioni, tanti problemi Ma ne siamo fieri perché siamo riusciti a creare qualcosa che alla fine ci appagherà di tutti i nostri sacrifici Grazie a tutti